Eeeh, 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 eeeh... Eeeh... Chiede il vento scherzo di una piaglia che devi già parte nella mia figlia Anche a un vento scherzo di un po' di fattiglia Sono tra l'altro e vivo comeàn e fantasia L'amicizia c'è daia, se no a toccasca c'è Se in sé che è sua, in sé che guadagnai Noi compra l'amore, noi paga il dolore, l'olore Venghi e scrivere, non evitare, sonare, campare Per rispattare, che sta vengendo a sé Venghi e scrivere, cantare, sonare, contare Tanta grana, si tu scrivere, mona, non evitare Venghi e scrivere, non evitare, sonare, cantare Per rispattare, che sta vengendo a sé Venghi e scrivere, cantare, sonare, contare Tanta grana, si tu scrivere, mona, non evitare Venghi e scrivere, sonare, cantare Per rispattare, che sta vengendo a sé Venghi e scrivere, cantare, sonare, contare Tanta grana, si tu scrivere, mona, non evitare Venghi e scrivere, non evitare Signore e signore sonare Signore, signori, sono veramente, sono veramente orgoglioso orgoglioso di essere stato qui è stato per noi veramente un grosso odore onore fa odore, onore sono letteralmente putrefatto di upefatto di essere stato davanti a questo polpo polpissimo polpissimo però lo spettacolo sta letteralmente scevando mi vede sì ed è venuto il momento di congelarsi da voi congelarmi una cosa soltanto piccola ma importante siete stati veramente un pubblico meraviglioso pubblico sano pubblico vero pubblico competente pubblico geniale pubblico fantastico pubblico fantasagorico pubblico eterno pubblico etere pubblico superbo pubblico superiore pubblico generoso pubblico festante pubblico festoso pubblico eterno pubblico eterno pubblico geniale pubblico superiore Un pubblico immenso, un pubblico superiore, un pubblico notevole, un pubblico grande, un pubblico sensazionale, un pubblico superiore, insomma, siete il pubblico che ogni attore desidera avere, anzi, diteci dove siete lunedì prossimo così veniamo a vedervi. Anche noi altri dobbiamo fare un test, un sondaggio, e il sondaggio è questo, mi raccomando, aspetta Roberto che si imbarme sempre, allora, chi che ha gradio spettacolo alza il braccio destro, così, neanche a uno, ma chi che vuole, tranquillo, bello alto però duro così, lo sentivo, è inescovole che attiva sul braccio, cioè, è a fare, è per paresi, no, è giù buono di imbarare, se la metto, se bisogna battere le nacchere, allora, beh, braccio alto così duro, chi che ha gradio spettacolo, braccio alto, adesso la mano muove la mette aperta, adesso molto lentamente, ma molto lentamente, sbassiamo in questa maniera qua, così, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, sempre più pian, portiamo sotto posizione qua, tira fuori il portafoglio, vieni qua a comprare i nostri cassetti, i nostri cd, che vuol dire, comprare il disco, la prossima volta, ciao a tutti, ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.